Omar Diop torna ad indossare la casacca biancoscudata, un'operazione di mercato, quella della Nissa, abbastanza complessa, che è stata conclusa con successo nella tarda serata di ieri con il Canicatti. La società grigentina, prima di cedere il difensore senegalese che voleva fortemente tornare alla Nissa, ha dovuto cautelarsi ingaggiando un altro centrale difensivo, Emanuel Baiata, proveniente dal Trapani. Un trasferimento, come si diceva, fortemente voluto dal giocatore, dal presidente Arialdo Giambusso e da tutta la società che ha contribuito pienamente per la buona riuscita della trattativa. Già da oggi pomeriggio Omar Diop si è messo a disposizione del tecnico Angelo Bognanni per preparare con la squadra la difficile trasferta di domenica a Sciacca. Il ritorno di Diop va dunque a completare il reparto difensivo e riaccende l'entusiasmo dei tifosi. Con Diop al centro della difesa, nella prima parte del campionato, la Nissa non ha subito golle per oltre 400 minuti. Questa operazione chiude il mercato dei biancoscudati, anche se in queste ore la società rimarrà attenta e se ci saranno altre opportunità last minute, cercherà di coglierle al volo.